Continuiamo a conoscere le ragazze del San Giustino Volley di B1 a qualche giorno dall'inizio del campionato Bruna Mautino, Martina Escher, due atlete della San Giustino Volley Partiamo da Bruna, dal Peru, da 15 anni in Italia Qui a San Giustino per cercare di ritornare a giocare la pallavolo ad un livello un po' più alto, Bruna? Sicuramente l'obiettivo è anche quello Per il momento pensiamo a fare un ottimo campionato di B1 I presupposti comunque ci sono tutti La società ci crede, il paese ci crede e ci crediamo anche noi È stato un precampionato un po' a fase alterna Avete cercato di giocare con formazione dello stesso livello Però i risultati non sono stati quelli che magari si aspettava la società Ora però iniziamo a fare sul serio Domenica c'è il debutto, mi ricordi contro chi giocate? Giochiamo contro Pesaro che sulla carta è la favorita del campionato Quindi subito una grande sfida È importante anche per noi appunto perché non abbiamo convinto in queste amichevoli Quindi è arrivato il momento di dimostrare al pubblico, alla società e a noi stessi soprattutto Qual è il nostro livello Vi siete chieste fra di voi perché non avete convinto nel precampionato? Sicuramente abbiamo fatto moltissime analisi sia tecniche, tattiche, emozionali Perché comunque anche questo fattore conta E con l'allenatore stiamo lavorando per cercare di colmare diciamo quelle che sono state le lacune più evidenti Abbiamo dei reparti e ancora l'amalgama da formare Quindi siamo comunque un gruppo tutto nuovo, molto giovane e abbiamo molto da lavorare ancora Martina con quale spirito si arriva a questo debutto in serie B1? Beh sicuramente ti ripeto come già ho detto prima Siamo qui per questo, è arrivato il momento, sta arrivando il grande giorno Quindi si affronta con grande entusiasmo Io per il momento ancora sono tranquilla Però ti dico che già sabato notte non dormo perché sono anche un po' emozionata Ci sta, gioco da tanti anni a pallavolo Però la prima partita di campionato è sempre emozionante Però dai c'è grande voglia di giocare Speriamo, noi ce la mettiamo tutta Quindi speriamo di fare bene, di portare a casa il risultato Dalle prime gare amichevoli e soprattutto dagli allenamenti che avete fatto al Palasport a San Giustino Mi è sembrata una formazione molto coesa, molto unita C'è un bello spirito, vi aiutate a vicenda e soprattutto tanti sorrisi Sì, 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 il gruppo si è creato subito, sin dal primo giorno E ti ripeto, questo ci aiuta tanto anche magari nelle amichevoli che non sono andate bene Poi siccome siamo tutte comunque ragazze intelligenti Abbiamo parlato fra di noi e abbiamo risolto quelle piccolezze che non stanno andando Ora stiamo lavorando per arrivare al meglio domenica e siamo cariche Il timore, se c'è un timore per la gara di domenica Magari provare a dare il 110% perché di là c'è una delle più forti e ancora non essere in grado di darlo? Beh sicuramente il fatto che ci sia una delle favorite del campionato ti stimola ancora di più a fare bene Quindi sì, non lo so Sei già in clima partita Martina Sì, non mi preoccupa tanto questa cosa, che loro sono le favorite, sono le più forti Io so chi sono io, so chi è la mia squadra, credo nelle mie compagne, credo nel mio allenatore E giocheremo al loro livello Poi per carità, ripeto, noi ce la mettiamo tutta e se viene il risultato Come giusto che sia Bruna, l'infortunio della Giulia Bartolini Quanto pesa? Soprattutto nel 6 contro 6 Perché non avete magari la possibilità di confrontarvi in allenamento con un sestetto di pari livello al vostro Sì, hai detto bene Si sente molto, soprattutto in allenamento in questo periodo Perché ci manca quella continuità di gioco che invece il 6 contro 6 riesce a garantire Riusciamo a sopperire grazie a qualche giovane, a qualche ragazzo che viene a darci una mano Ma sicuramente non è la stessa cosa E poi mi dispiace molto proprio per Giulia Perché è giovane, promettente, il suo primo anno in B1 Insomma, dispiace proprio Grazie a tutti